Salve a tutti Blazers e benvenuti in questo nuovo video della serie di sopravvivenza Oggi andremo a costruire una delle cose che mi avete chiesto di più tipo negli ultimi anni Perché effettivamente nel mio mondo manca una fornace automatica E vi chiederete, Eren, perché non hai mai fatto una fornace automatica? Il motivo è molto semplice e ce l'ho con te, Gesualdo Lo so che tu stai guardando questo video con il tuo amico Pier Ferdinando E non vi siete iscritti al canale Se volete che io faccia cose nella serie mi raccomando iscrivetevi al canale E partecipate ai commenti suggerendomi cosa volete che io faccia Non fate come Pier Ferdinando che non si è mai iscritto e Gesualdo non ha mai commentato E quindi io non è che posso sapere cosa vorrebbe vedere nei video Ecco, adesso che lo so, facciamo la fornace automatica Essenzialmente una fornace automatica è un qualcosa di cui non ho mai sentito troppo l'esigenza Perché quando devo smeltare qualcosa mi riesce abbastanza semplice Venire qui, ho già caricato il mio carbone, metto l'oggetto, aspetto e lo ritiro Easy Al che per costruire una fornace automatica bisogna avere un motivo valido Che ci faccia risparmiare tempo oppure materiale Quindi le strade percorribili erano due O fare una fornace dove posso buttare tutto, carburante e oggetti da smeltare in una cesta E me le auto smista nelle varie posizioni Quindi un semplice filtro con delle tramogge funzionerebbe Ed è una cosa che avevo già nella mia base ma poi ho tolto perché non la usavo mai Oppure dovremo fare una fornace automatica che va a sfruttare un combustibile eterno Ma l'unico modo che ho per fare questa cosa facilmente purtroppo è sfruttare un glitch E quindi oggi faremo un'eccezione e sfrutteremo un glitch del gioco Infatti molti episodi fa ormai avevo costruito in questo antro una macchina che andava a duplicare all'infinito dei tappeti E che te ne fai? Direte I tappeti si possono utilizzare come combustibile Non è un gran combustibile ma se ne hai infiniti e si producono da soli Capite che diventa una figata atomica Quindi vi linko nelle schede del video se vi interessa E oggi andremo a risfruttare quel glitch per costruire una fornace automatica Dove non servirà mai più inserire del combustibile Di norma io non vado mai a utilizzare i glitch perché mi sanno un po' di cosa antipatica E soprattutto se li fixano non li puoi più sfruttare Però in questo caso facciamo un'eccezione per amore del content Ma siccome mi voglio proprio meritare il vostro like oggi Prima di fare la fornace automatica breve aggiornamento di quest'area Ho lavorato alle parti esterne e ora tutta questa parete qui Tutto l'arco di roccia e anche la parte dietro È stata rifatta a mano e terraformata con i dettagli Per creare un supporto alla nuova area che sto costruendo Che pian piano sta prendendo piede qui nella base Spero vi piaccia, ci ho lavorato in live ed è uscito penso abbastanza bene Prima cosa di cui abbiamo bisogno è spazio Voglio fare una cosa molto compatta ma richiederà un meccanismo abbastanza ingombrante Quindi andrò ad utilizzare quest'area qui che non è sfruttata E in questa parete voglio creare la mia fornace automatica Quindi per prima cosa il beacon è attivo Il beacon non è attivo Quindi andiamo ad attivare il beacon al volo da questa leva segreta E andiamo a scavare un bel po' di spazio nella parete in questo punto Perché qui faremo la fornace automatica Mentre è partito un tuono e devo andare a dormire Andiamo anche a prendere i materiali che ci servono Però appunto facciamoci prima una bella dormitina Mi potrebbe fare comodo un letto di supporto anche qui nella caverna Così da non fare avanti e indietro ma vabbè Per il nostro lavoro quindi per la nostra fornace automatica Partirei dagli oggetti che ci servono Voglio che la mia fornace abbia tre diverse fornaci in realtà Quindi una blast, una normale e uno smoker In modo da poter smeltare le varie cose a una velocità ottimale Ora ci manca solamente lo smoker di cui non ricordo mai il crafting Quindi facciamo smoker Vediamo come si crafta Fornace e quattro log direi anche abbastanza semplice Quindi ci prendiamo questi quattro log E tac questo l'abbiamo fatto Poi recuperiamo un'altra fornace Vorrei anche dei barili E delle ceste per fare delle tramogge Ed ecco lo smoker che in realtà l'avevo già fatto Quindi non dovevo craftarlo ma vabbè tant'è Allora per i barili ci prendiamo questi Ci prendiamo un po' di questi direi Perfetto E andiamo a creare esattamente quattro barili Dovrebbero bastare per quello che ho intenzione di fare Quindi mi servirà altro legno E vediamo un po' se ho già pronto Sì ho già un po' di tramogge Queste non so se mi basteranno Già che ci siamo però prendiamo il pistone sticky Due di questi blocchi Ci servirà una bella pressure Che vorrei però in blackstone Magari ma vabbè forse anche la stone va bene per ora Quindi prendiamo in stone E vediamo se ho esatto Uno bello observer Perfetto Allora potrei non avere ancora tutto l'indispensabile Anzi prendiamo un po' di roba per volta Ma cominciamo a piazzare qualcosina Ci servirà anche una torcia sicuramente Ed è la redstone che andiamo a prendere nella zona minerali Ah mentre mi trovo qui dentro Mi è venuto in mente che sto farmando un po' di robe Perché ultimamente in live Facciamo molta esplorazione alla ricerca della melopi Mi servono due melopi Rispetto a quella che avevo già Quindi altre due E ne ho già trovata una durante una live Con molta fatica ma nelle piramidi Ne ho trovata una Appena ne avrò una seconda Faremo l'obiettivo E faremo anche un'altra cosa molto figa E molto rara di minecraft Quindi ragazzi Andiamo a costruire la nostra fornace La prima cosa che dobbiamo fare È mettere una zona di scarico Quindi dove arriveranno le nostre cose smeltate Potrebbero arrivare in questo barile Che andiamo a piazzare qui Così sciallissimo In questo barile Quindi arriverà tutto Per arrivare qui Abbiamo bisogno di una serie di tramogge Che spinga gli oggetti fino al barile E la facciamo partire da questo punto Perché qui sopra Vado a mettere le mie fornaci E metteremo lo smoker al centro La blast qui E magari la fornace da questa parte Quindi abbiamo tutte e tre le fornaci Che ci possono servire Ogni cosa verrà scaricata Fino a questo barile Ed è perfetto così In questo punto Io mi fermerò Per attivare il circuito Che ci permetterà di produrre Il combustibile infinito Quindi dobbiamo scavare qui sotto E scaviamo anche tutta una tratta Perché dobbiamo portare dietro E abbiamo detto che qui avremo il blocco Quindi scaviamo ancora più sotto E mettiamo una prima strisciolina di redstone Che poi si andrà a ricoprire Con l'andesite Che avevamo all'inizio In modo che In questo punto Andiamo a mettere adesso una pressure Esattamente qui Quindi il pressure di pietra va benissimo Quando ci vado sopra Attivo la redstone Molto semplice Ora le nostre fornaci Hanno bisogno di altri input Quindi abbiamo messo l'output Il risultato che va nel barile Dobbiamo portare ovviamente Gli oggetti da smeltare Fino alla fornace dall'alto Quindi 1, 2 e 3 E ognuno di questi Avrà il barile corrispondente Che ci permetterà di Insomma di decidere cosa Buttarci dentro Ne metto uno così Non era proprio come volevo Ma va bene Ne mettiamo magari uno Che guardi in questo modo Ne mettiamo uno In questo modo Quindi sono tutti un po' storti In questo modo Quando arriverò alla fornace Potrò dire Ok voglio smeltare Dei minerali Metto la roba qui E vanno qui dentro Voglio smeltare il cibo Lo metto qui Il resto nella fornace normale Ora L'altra cosa che manca È ovviamente Il carburante Per il carburante Mettiamo Dietro A tutti questi Una bella fila Di Tramogge Ovviamente Ogni tramoggia Deve puntare A una diversa fornace Ma ora Questa fila di tramogge Andrà allungata parecchio Perché dovrà coprire Un'area Dove andremo a produrre Questi tappeti infiniti Che poi Randomicamente Si spargeranno Speriamo in maniera uniforme All'interno delle fornaci Quindi dovremo Allungare qui dietro Abbiamo bisogno Di altre tramogge Che adesso andiamo a farci Volendo proprio Esagerare Penso che Una Un quattro Tramogge Per fila Dovrebbero bastarci Quindi facciamo una cosa così E poi qui sopra Andremo a costruire Il circuito Che avevo già fatto In precedenza Per Sdoppiare I tappeti Come si fa? In breve Prendiamo Un observer E lo mettiamo In questo modo Quindi la faccia Deve guardare Da questa parte In realtà Però Questo observer Lo mettiamo più indietro Perché così siamo troppo Incollati Alle fornaci Dove è finito Il mio observer? Dietro all'observer Andiamo a mettere Un pistone In questo punto Sopra Al pistone Adesso qua Conviene scavare Ancora Intanto Così adesso Riempiremo tutte le tramogge Ma fa niente Poi andiamo Sistemare Andiamo a mettere Dicevo Degli slime block O degli only block Quindi uno qui E un altro qui Il tappeto andrà Piazzato in questo punto E per finire Qui sotto Va messo Un blocco fisico Questa è la macchina Che sdoppia i tappeti Molto semplicemente Questo punto Va ovviamente Alimentato Per alimentare Questo blocco Dobbiamo utilizzare La tratta di redstone Sotto Quindi andiamo A collegare il tutto Quindi Attenzione Perché qui c'è Un passaggio importante Questo pezzo Di redstone Deve arrivare In questo punto E qui metteremo Un blocco E una torcia Sul blocco Questo andrà A invertire Il segnale Della redstone Ed è un passaggio Fondamentale Per far funzionare Solo quando vogliamo Il circuito Altrimenti Altrimenti Se va il contrario Funzionerà Sempre A parte Quando andiamo Sulla pressure Quindi riprendiamo Ora la redstone E tiriamola Sui blocchi Fino ad arrivare Chiaramente Al blocco Che ci interessa Controllando Che il segnale Si è abbastanza lungo Ma non abbiamo problemi Come vedete E va ad attivare Appunto Il pistone Per la prima volta Ora Ci prendiamo Un tappeto Random Facciamo quello viola Direi che va benissimo Tanto il colore Non influisce In alcun modo La produzione E questo tappeto Lo andiamo a mettere Nel punto Che vi stavo dicendo prima Quindi sopra Al pistone Di fatto Allungato Quindi andiamo a metterlo Esattamente qui Questo tappeto Ora Adesso svuotiamo Anche qua Andrà ad essere Duplicato all'infinito Come? Basterà andare Qui sopra E come potete sentire Là dietro Il circuito Sta duplicando Tappeti all'infinito Ne vediamo anche alcuni Che stanno Droppando in giro A casaccio Quindi funziona Quando io mi stacco Termina di produrre Il combustibile Quindi solamente Quando arriverò qui E andrò a inserire Gli oggetti All'interno Della mia fornaccia Automatica Partirà la produzione Del combustibile Altrimenti la macchina È totalmente spenta Ed ecco qui I nostri tappeti Ora se abbiamo fatto I compiti per bene Dovremmo avere Dei tappeti Anche qui dentro E purtroppo Non ne sono arrivati Qui adesso L'unico problema Che questa macchina Produce tappeti Che schizzano Ovunque E il nostro problema Che dovremo gestire Sarà capire Se riusciamo a farle Arrivare In tutte E tre le fornaci Anche randomicamente Però basta che Più o meno Si riempiano Tutte quante Altrimenti Non funzionerà In questo caso Quella del centro Come possiamo notare Un primo grosso problema È che alcuni tappeti Si bloccano qui Quindi adesso Andremo sicuramente A tappare Tutto quanto E soprattutto Tutti i contorni Di quest'area E probabilmente Anche la redstone Converrà a farla Arrivare da dietro Perché altrimenti Si crea Questo problema Che non riusciamo A tappare tutto Quindi facciamo Esattamente così Funziona comunque La tratta è abbastanza lunga Quindi andiamo ora A tappare Tutte quante Le pareti In modo Da evitare Lo spargimento Inutile di tappeti Quindi come vedete Ho chiuso tutto Almeno quello Che si riesce a chiudere Io metterei anche Dei blocchi qui In modo da Limitare il più possibile L'accumulo di tappeti In questa posizione Dovrebbero in questo modo Rimbalzare giù Ci mettiamo anche Dalle torce Chiaramente Perché non vogliamo Lasciare il buio Le mettiamo anche Da questa parte E poi Quello che devo fare È anche Bloccare questa zona Perché si vedrebbe Da fuori E non sta bene Quindi ci mettiamo Pensavo Dei tronchi In questo modo Che andiamo a scortecciare E sopra Chiudiamo con Del materiale Random Che potrebbe essere Della pietra Considerando però Che intanto Qui dobbiamo uscire Se non usciamo È un casino Ma dicevo Considerando che In questo punto Saremo a contatto Con il blocco di miele Che è appiccicoso Quindi dobbiamo mettere Dei blocchi Che non possono essere Appiccicati Tipo questi Non possono essere Spostati Da fuori Poi li andiamo a coprire Quindi non si vedranno Stavo facendo un errore Che non poteva mettere In funzione la macchina Perché giustamente Per come ho chiuso tutto C'è un piccolo problema Che non attiverebbe Il pistone Ovvero Il tappeto Non può Moltiplicarsi Se non ha Dello spazio Per moltiplicarsi Quindi questa parete In realtà Deve essere Tolta In modo che Il tappeto Possa Duplicarsi E spostarsi In questo punto Altrimenti Non succederebbe Niente Quindi Fatta questa Considerazione In realtà Io metterei Altre due tramogge In questo punto E semplicemente Terrei più larga La La zona Quindi facciamo così E la chiudiamo Praticamente Dietro al pistone In modo che Ci sia tutto Lo spazio necessario E idem Questa parte qui Ovviamente Era sbagliata Perché Lo slime In questo caso L'honey block Deve potersi muovere Quindi svuotiamo Tutto da eventuali detriti Non sembrano essercene Quindi perfetto Ma in realtà In realtà abbiamo coperto Le ultime tramogge E infatti Ci sono parecchi detriti Quindi togliamo tutto Tappiamo Proviamo Questa volta dovrebbe essere Operativo al 100% Quindi le nostre fornaci Sono tutte vuote Adesso andando qui Attiviamo il circuito Che sta duplicando I tappeti Quello che a noi Importa sapere È che I tappeti Entrino Ovviamente A caso In tutte le fornaci In questa Non dovremmo avere problemi Infatti si sta caricando In questa neanche In questa Sì E infatti è vuota Perché è vuota questa? Perché quando cicciano fuori E esplodono Tutti i tappeti Purtroppo Finiscono Più volentieri Sui lati E quindi al centro Non stanno andando Dobbiamo risolvere Questo problema Altrimenti avremo Una fornace Non alimentata Problema numero uno Molti tappeti Si perderanno Lì sopra Purtroppo Quindi non andranno Nel punto giusto Quello che potremmo fare Per il resto Servirebbe Vedere la macchina Alimentata Per capire dove vanno Quindi facciamo al volo Una cosa furba Togliamo questo Mettiamo Una bella pressure Di legno E la andiamo ad attivare Noi Con un drop Così vediamo Dove vanno Sti tappeti Allora Come vedete Esplodono E vanno Sia qui a destra Che dalla parte opposta A sinistra Dovremmo forse Pensare di sacrificare Una tramoggia Che ne so Questa ad esempio E farla Deviare Nella fila centrale Forse in questo modo Riusciamo a trasportare Un po' di Loot Anche in quel punto Quindi andiamo a disattivare Quindi Questa tramoggia La aggiungiamo solo Per far Trasportare alcuni tappeti Al centro E questa qui a lato La giriamo Verso la fila centrale In questo modo Così forse Salviamo il salvabile Chiaramente Non sarà mai Efficiente al 100% Così Devo capire Se esiste un modo Per smistare meglio Gli oggetti Però Producendo tappeti Infiniti A profusione Penso che Non ci accorgeremo mai Del problema E quindi Dovremmo essere a posto Allora Proviamo ora A ritappare tutto E a fare un altro test Vediamo se così L'abbiamo fixata Ovviamente Le ho svuotate tutte Le fornace Poi sti tappeti Li butteremo Perché a sto punto Li teniamo solo Come combustibile Non è che Li voglio farmare Questa ovviamente Funziona ancora Non ne stanno già entrando più Quindi Non capisco proprio Come stia funzionando il tutto Ma ok Adesso entrano a caso Qui Ancora Se ne caricano Più lentamente Perché abbiamo deviato il flusso E qui arrivano Perfetto Quindi con questo piccolo accorgimento Abbiamo sistemato Abbiamo sacrificato Un po' di tappeti Nella fornace blast Per averne di più Nella smoker Ovviamente La priorità Alimentare questa Che essendo quella generica È quella che useremo più spesso A posto Abbiamo fatto tutto Possiamo chiudere E decorare Per le decorazioni Mi terrei sul semplice E andiamo ad utilizzare Delle botole Per andare A coprire queste I barili là sopra Sono Devono rimanere raggiungibili Poi adesso vediamo Con la decorazione Il resto Lo fondiamo alla parete Con un po' di dettagli in pietra Che adesso andiamo a prendere E ora ragazzi Ecco voi La fornace Completa Eccola lì L'ho mischiata Come vedete Nel cavo Nel buco Della parete Secondo me è molto molto carina Anche esteticamente Abbiamo tutti gli elementi utili Ho rinunciato un po' alla comodità Per renderla più cavernosa Perché ad esempio I barili Sono poco raggiungibili Le fornaci sono un po' nascoste Però voglio dire Che se ne frega Tanto non dobbiamo mai agire Direttamente alla fornace Altrimenti non sarebbe automatica Quindi Come vedete Sono tutte vuote Ora Qui è tutto vuoto Andiamo a caricare Nella fornace normale Un blocco di pietra Da smeltare Nello smoker Un pezzo di cibo E qui un minerale Da smeltare Ora Semplicemente Tenendoci qui Noi stiamo Producendo Del combustibile Che andrà a smeltare Le nostre fornaci Vedete che si stanno Accendendo tutte Si sono accese tutte Ora Richiederà un attimo Per Funzionare Appunto Lo smoker Ha un problema Penso di alimentazione Forse Gli stanno arrivando Troppi tappeti Inizialmente O forse hanno già finito Quindi andiamo a vedere qui Ecco Due cose su tre Mentre la carne È ancora cruda Mmm Perché ovviamente Non è caricato lo smoker Non ha abbastanza tappeti Ora vi faccio vedere Il problema dei tappeti Come vedete È questo Appena arriva un tappeto Vedete che Lo smeltaggio Fa in tempo È da venire No Perché richiede Tre tappeti Per smeltare Un oggetto Quindi in questo caso Non sta facendo in tempo A smeltare Come risolviamo questo problema A parte che adesso Ce l'ha fatta Ma lo risolviamo Semplicemente così Quindi intanto A noi interessa Che funziona Che nel barillo Abbiamo le cose smeltate Per ovviare questo problema Prima Di utilizzare Per la prima volta Le fornaci Basterà mettersi qui A FK Un po' Lasciamo che produca I suoi tappeti E che si carichi Tutto quanto Di tappeti Quando avremo Un backup Di tappeti Non esisterà Più questo problema Perché Mentre smelterà Gli oggetti Ne entreranno Di nuovi Quindi se abbiamo Già Dei tappeti pronti Siamo a posto Quindi consiglio Di stare A FK Così per Non lo so Un quarto d'ora Dovrebbe caricarsi A sufficienza Per poi poter fare Tutto quanto Senza avere problemi Bene Per questo video È tutto La fornace È fatta Io sinceramente Non so Quanto la utilizzerò Perché sono Molto più pratico Veloce Con le fornace Normali E raramente Devo smeltare cose Però L'abbiamo Nel caso La potremo usare Quando e come vorremo Detto ciò Noi ci salutiamo E ci vediamo Domani Con un nuovo video Un saluto da Eren Ciao a tutti 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 Grazie a tutti.